Bene, allora ricordiamo che comunque questa è una competizione per cui il pubblico può anche scatenarsi, applaudire, mi raccomando, possa sentire proprio... Noi indietro lo riusciamo a stare da rari, quindi anche voi presentiamo allora il prossimo foro, il foro civico Città di Magenta e sottolineiamo proprio per la particolarità del foro Spontas che è un foro molto religioso e molto culturale abbiamo il piacere di avere qua un foro con la benedettrice Tatiana Borodai che è russa e il brano appunto della tradizione cristiana è un po' d'ossa e canteranno queste canzoni il padre nostro di Bon Piazzi Un applauso! Un applauso! Un applauso! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.